Non lo so, non l'ho fatto, non l'ho fatto. Blackberry, il messaggio che mi ha detto, la mia mia è Blackberry del Giselle, nessun servizio, un messaggio configurato, verrà effettuato il reindirizzamento alla configurazione di data per impostare l'account di posta elettronica. Nessun servizio, nessun messaggio configurato, verrà effettuato il reindirizzamento alla configurazione di data per impostare l'account di posta elettronica. Ok, basta, non dice, mi è prato, mi è molto. Ma io, io ho la finestrella che si è, che le ho letto, le devo subito spingere. Ok, quindi? Allora, configurazione di posta elettronica, configurazione di posta elettronica, tradizionare la notizia di configurazione della posta elettronica, crei o aggiungi l'utilizzo di posta elettronica. Allora, quindi, mi sa tolta. Utilizza, aspetta, crea o aggiungi l'utilizzo di posta elettronica, oppure, utilizza l'account di posta elettronica e aziendale con BlackBerry Enterprise. No, non ci interessa. Allora che devo fare? Devo creare un nuovo... Quindi chiudo. Quindi chiudo, quindi chiudo questo... Grazie di posta elettronica. Grazie. 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 Grazie.